Questa anticipazione di terra amara per l'episodio del 19 aprile racconta di molti eventi emozionanti. Sermin diventa un'abile ladra, e il suo obiettivo è rubare un prezioso amuleto di Leila, infiltrandosi nella villa. Nel frattempo, si verifica un primo incontro fra Fikret e Zeynep che fa scattare tra loro una scintilla irresistibile. Il giorno del matrimonio tra Zuleya e Akan è ombreggiato dalla scomparsa di Lutfi, creando tensione e trambusto, ma nonostante tutto, Zuleya e Akan riescono a celebrare il loro amore con un matrimonio indimenticabile. Dopo la cerimonia, i neosposi si preparano a vivere la loro prima notte insieme, piena di emozioni e passione. Infine, la puntata si apre con una conversazione tra Rashid e Gaffur, con Rashid che suggerisce Gevri come moglie ideale per Gaffur. Tuttavia, Gaffur mostra chiaramente il suo disappunto e riafferma la sua indipendenza, lasciando intendere che Gevri non è la donna che desidera. In questa rivisitazione della trama di Terra Amara, Sermin e Betul si trovano in una situazione critica dopo aver perso la loro casa e i risparmi. Le due donne, ora senza risorse, si ritrovano a dipendere dall'ospitalità di Zuleya, che le accoglie nella modesta abitazione di Gaffur. Nonostante la generosità di Zuleya, che fornisce loro cibo e alloggio, Sermin e Betul faticano a apprezzare l'aiuto ricevuto, rimanendo intrappolate in un limbo di rancore e amarezza. Un mattino, l'opportunità si presenta a Sermin quando entra in cucina mentre Fadik sta nutrendo la piccola Leila. Notando l'amuleto d'oro appeso al maglioncino della bambina, Sermin, con un'attenta osservazione, approfitta di un momento di distrazione di Fadik e sottrae furtivamente l'amuleto. Tornata a casa, il conflitto interiore di Sermin emerge quando Betul la trova in lacrime. Sentendosi colpevole, Sermin confessa a sua figlia di sentirsi come una ladra, mostrandole l'amuleto di Leila. Questa rivelazione sottolinea la disperazione e il senso di colpa che Sermin prova, nonostante le difficili circostanze in cui si trova. In questo rielaborato segmento di Terra Amara, la trama si infittisce con Sermin che, sopraffatta dall'emozione e dal risentimento verso la famiglia Yaman, accusata di averle rovinato la vita, si confida con Betul. Sermin, che una volta occupava una posizione di prestigio, ora si ritrova a rubare alla propria nipote, simbolo del suo drastico declino. Betul, cercando di consolare la madre, la abbraccia e le promette che la loro sorte sta per cambiare. Le due si aggrappano alla speranza che, alla morte di Kolak, erediteranno la sua ricchezza e potranno finalmente vivere la vita che meritano. Nel frattempo, Fadik e Gevry riferiscono a Zuley a che Sermin e Betul avevano lasciato la casa di Gaffur con le valigie, in un apparente gesto di sfida, ma sono poi ritornate. Questo comportamento lascia Zuley a perplessa, ma le preoccupazioni relative ai preparativi del suo matrimonio con Akan la distraggono dal riflettere ulteriormente su queste anomalie. Zuley a Akan, concentrati sul loro futuro insieme, decidono di organizzare una cerimonia nuziale semplice e intima. Zuley a riesce a convincere Akan a rimanere nella villa e a prendersi cura dell'eredità di famiglia, ponendo le basi per una nuova fase della loro vita insieme. In questo rivisitato scenario di terra amara, Lutfi e Cetin sono preoccupati per Fikret, il quale non riesce a superare la sua infatuazione per Zuley. Decisi a aiutarlo a trovare la felicità, organizzano un incontro con Zeynep, sperando che possa svilupparsi una relazione amorevole tra loro. Per creare l'occasione perfetta, pianificano una cena come pretesto per permettere ai due giovani di conoscersi meglio. Quando Fikret arriva alla cena, l'incontro con Zeynep si rivela subito promettente. La sorpresa piacevole sul volto di Zeynep e l'interesse reciproco sono evidenti. I loro sguardi tradiscono una chiara attrazione. Dopo la cena, Fikret offre cortesemente di accompagnare Zeynep a casa, estendendo così il loro tempo insieme e permettendo loro di approfondire la conoscenza reciproca. Lutfi e Cettino servano con soddisfazione, contenti di vedere che il loro piano sembra funzionare. La serata si conclude con un senso di speranza per il futuro sentimentale di Fikret, grazie agli sforzi attenti e premurosi dei suoi amici. Durante il viaggio in macchina dopo la cena, Fikret e Zeynep colgono l'occasione per conoscersi meglio. Il loro dialogo rivela un'incredibile affinità, segnando un momento di intima connessione tra i due. Sentendosi già profondamente legato a Zeynep, Fikret si offre di aiutarla a trovare una nuova casa, permettendole così di lasciare l'hotel dove alloggia temporaneamente. Prima di salutarsi, mentre Zeynep sta per entrare nell'hotel, i due scambiano uno sguardo intenso che suggella la loro nascente complicità. Lei ringrazia Fikret per il passaggio, e lui, colpito da lei, esprime il desiderio di rivederla presto. Zeynep accetta con entusiasmo, segnando l'inizio di una promettente relazione. Fikret torna a casa quella sera con un sentimento di gioia e speranza per il futuro. Parallelamente, il dramma si intensifica altrove. Vaap, animato da un desiderio di vendetta contro Kolak, decide di agire. Determinato a diventare il peggiore incubo di Kolak, Vaap si intrufola nella sua stanza di notte e lascia una gallina come simbolo di sfida e minaccia. Un gesto bizzarro volto a turbare e confondere Kolak. Questa mossa audace di Vaap getta un'ombra inquietante sulle vicende di Terra Amara, promettendo ulteriori colpi di scena e tensioni. La trama di Terra Amara si arricchisce di nuove svolte emotive e drammatiche. Kolak è visibilmente turbato, incapace di spiegarsi come Keskin riesca a entrare e uscire indisturbato dalla sua villa, un mistero che lo assilla profondamente. Nel frattempo, si sviluppa un'altra linea narrativa. Lutfi, decisa a lasciare la residenza di Zuleia in vista del prossimo matrimonio, si prepara al trasloco. Il giorno successivo, Fikret si reca alla villa per aiutare sua zia e il piccolo Kerem a trasferirsi. Il commovente addio di Lutfi a Fadi che agli altri lavoratori della villa, unito al ringraziamento a Zuleia per l'accoglienza e la cura ricevute nei mesi trascorsi insieme, enfatizza il legame e la gratitudine che Lutfi sente, non essendosi mai considerata una semplice ospite. Subito dopo la partenza di Lutfi, Zuleia e Akan si dedicano a riarredare la villa, simbolo del nuovo inizio che stanno per intraprendere insieme. In un gesto simbolico, appendono una foto di coppia nella camera matrimoniale, preparando la scena per la loro vita coniugale. La celebrazione del matrimonio tra Akan e Zuleia trasforma Villa Yaman in un luogo di festa e gioia. Zuleia, aiutata da Fadi, indossa il suo abito da sposa mentre riceve gli auguri più sinceri. Fadi, commossa, esprime il desiderio che la pace sia finalmente arrivata in quelle terre e che il matrimonio segni l'inizio di un capitolo felice e prospero per Zuleia, sottolineando che questo è solo l'inizio di un viaggio condiviso. La trama si intreccia con speranza e rinnovamento, promettendo ai telespettatori un futuro pieno di amore e tranquillità per i personaggi amati. Un momento di intimità prematrimoniale tra Akan e Zuleia viene dolcemente interrotto quando Akan decide di vedere la sua futura sposa prima della cerimonia. Con grande affetto, le regala una collana di perle accuratamente selezionata, simbolo del suo amore e della cura che ha per lei. Zuleia, toccata dal gesto, lo ringrazia calorosamente. Pochi istanti dopo, la coppia scende insieme in soggiorno, dove alcuni ospiti li accolgono con entusiasmo. Nel frattempo, Betul e Sermin, non invitate al matrimonio, osservano con attenzione gli eventi dalla loro posizione nella casa di Gaffur. Tra loro emerge una conversazione carica di invidia e rancore. Discutono come Zuleia sia riuscita a catturare l'attenzione degli uomini più ricchi e influenti, affermandosi come una delle figure femminili più potenti in Turchia, specialmente ora che sta per unire la sua ricchezza a quella di Akan Gumuzoglu. La loro situazione di vita, in netto contrasto, è precaria e dipendente dall'auspicio di ereditare la fortuna di Kolak. Alla villa, l'atmosfera è festosa e tutto sembra procedere senza intoppi, fino a quando emerge un'imprevista complicazione. L'Utfi, che dovrebbe ufficiare la cerimonia nuziale, risulta irreperibile. Questo sviluppo inaspettato preoccupa Zuleia, che, in un gesto di cautela e responsabilità, decide di posticipare il matrimonio fino a quando L'Utfi non sarà trovata. La decisione sottolinea l'importanza di L'Utfi nel loro cuore e nella comunità, e introduce un'attesa carica di tensione nell'aria, mentre tutti si chiedono cosa possa essere accaduto. La tensione si intensifica quando emerge la notizia della scomparsa di L'Utfi. Zuleia riceve una chiamata che conferma i timori. L'Utfi aveva lasciato il municipio circa cinque ore prima, dirigendosi verso Villa Yaman per la cerimonia come previsto, ma da allora non si hanno più notizie di lei. In risposta, Gaffur e Rashid vengono incaricati di coordinare una squadra di ricerca composta dai dipendenti della villa, determinati a trovare qualche traccia della donna scomparsa. Preoccupata per la sicurezza di L'Utfi, Zuleia inizia a sospettare che Kolak, contrariato dalla decisione di L'Utfi di autorizzare un ordine di demolizione che lo riguardava, possa averle fatto del male come forma di vendetta. La situazione si complica ulteriormente quando le autorità vengono informate delle circostanze e decidono di arrestare Kolak come principale sospettato nella scomparsa del sindaco. La comunità è scossa da queste accuse, e molti credono che Kolak possa aver effettivamente compiuto un gesto così estremo. Gaffur parla di L'Utfi come se fosse già morta, rafforzando l'aura di sospetto e paura che si è creata attorno a Kolak. Tuttavia, nonostante le accuse e l'arresto, Kolak sostiene la sua innocenza, affermando di non avere alcun coinvolgimento nella scomparsa di L'Utfi. In questo caso, le sue affermazioni sono vere, aggiungendo un ulteriore strato di mistero e tensione alla trama, mentre tutti cercano di scoprire cosa sia realmente accaduto a L'Utfi e chi possa essere il vero responsabile della sua scomparsa. Ma presto si svela il mistero che ha avvolto la scomparsa di L'Utfi. Il giorno del matrimonio, L'Utfi lascia il municipio e si mette in viaggio verso Villa Yaman per celebrare l'unione tra Zuleyha e Akan. Proprio in questo frangente, le forze dell'ordine si dirigono verso l'officina di Abdul Qadir, alla ricerca di Vaap, il quale, colto dal panico, riesce a sfuggire attraverso una finestra. In fuga, Vaap incrocia casualmente l'auto di L'Utfi. Con un gesto che maschera le sue vere intenzioni, Vaap ferma l'auto del sindaco, le bacia rispettosamente la mano scusandosi per l'intrusione, ma poi, cogliendo l'occasione, le ruba l'auto e abbandona L'Utfi sola sulla strada. La situazione si chiarisce quando L'Utfi, dopo aver percorso a piedi lunghe distanze, riesce a raggiungere la questura e racconta l'accaduto. «Ho dovuto percorrere lunghe distanze, ci ho messo tempo per ritornare qui», spiega Esausta, rivelando i dettagli del furto dell'auto da parte di Vaap. Una volta chiarito l'episodio e dissipati i sospetti su Colac, L'Utfi e Zuleia possono finalmente tornare alla villa. Il matrimonio, che era stato temporaneamente messo in pausa, viene celebrato con gioia e sollievo. Le nozze, tanto attese, si svolgono senza ulteriori intoppi, segnando un momento di celebrazione e felicità per tutti i presenti. Nella rielaborazione del capitolo finale di Terra Amara, l'atmosfera è carica di emozione e aspettativa mentre L'Utfi, con solennità, ufficia la cerimonia noziale. Al suo fianco, i testimoni e personaggi come Gaffur, la nonnina, Adnan e Leila osservano commossi. Con un sorriso sulle labbra, Zuleia e Akan scambiano le promesse di unire i loro destini e al termine delle loro dichiarazioni, gli ospiti scoppiano in un caloroso applauso, celebrando l'unione della coppia. Divenuti ufficialmente marito e moglie, Zuleia e Akan condividono la loro felicità con gli amici e i familiari presenti. La celebrazione prosegue quella notte al club di Adana, dove si crea un'atmosfera di armoniosa festa. Il primo ballo degli sposi, come marito e moglie, è un momento di particolare intimità e connessione. Durante la festa, Fikret, accompagnato da Cetin, arriva per assicurarsi che sua zia stia bene e per congratularsi con gli sposi. Tuttavia, la sua attenzione viene catturata da Zeynep, presente all'evento. Non riuscendo a distogliere lo sguardo da lei, Fikret decide di rimanere più a lungo del previsto e, preso dal momento, invita Zeynep a ballare. La loro evidente affinità non sfugge agli occhi degli altri ospiti, che notano il crescente interesse reciproco. Al calar della notte, Akan e Zuleia fanno ritorno a casa come marito e moglie, pervasi da una gioia profonda e dalla realizzazione del loro sogno. Circondati dall'affetto dei propri cari, concludono la giornata nel calore della loro nuova vita insieme, segnando un lieto fine per questa tappa della loro storia. Zuleia è avvolta da una sensazione quasi onirica, felice di stare accanto all'uomo che ama. Entrando nella loro camera da letto per la prima notte come marito e moglie, l'atmosfera è carica di emozione e amore. Zuleia conferma i suoi sentimenti per Akan, e insieme si scambiano promesse di fedeltà e amore eterno. Che la nostra felicità possa durare per tutta la vita, si augurano mentre si preparano a iniziare la loro vita insieme. Il loro percorso verso l'amore è stato pieno di ostacoli e momenti di incertezza. Ci sono stati giorni in cui sembrava che Zuleia avesse perso interesse, ma alla fine, la loro determinazione li ha ricondotti l'uno nelle braccia dell'altro, dimostrando che il vero amore trova sempre il suo cammino. Questa riunione segna non solo la conclusione di una serie di sfide, ma anche l'inizio di una nuova fase di vita insieme, dove l'amore ha trovato un rifugio sicuro e duraturo. Questo finale di Zuleia e Akan ci lascia con un senso di compiutezza e speranza per il futuro della coppia. Riusciranno ad essere felici o succederà ancora qualcosa? Per rimanere aggiornati su ulteriori sviluppi e nuove storie, non dimenticate di iscrivervi al canale e seguire i prossimi episodi.